Sarà interrogato domani in videoconferenza dal carcere di Taranto dove è stato trasferito il pregiudicato 28enne barese Giuseppe Antonio De Noia, tornato ieri in cella dopo 5 giorni di latitanza e dopo essere evaso dal carcere di Trani lo scorso 26 agosto. De Noia, accompagnato dal difensore l'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, si è costituito ieri mattina in questura a Bari. Alla convalida dell'arresto in flagranza procederà la GIP del Tribunale di Bari, Anna Perrelli, e poi gli atti saranno però trasmessi per competenza alla Procura di Trani che ha già aperto un fascicolo di inchiesta. De Noia era in carcere dal 2017 per rapina. E ancora ricercato invece l'altro detenuto evaso con De Noia, il 22enne barese Daniele Arciuli, che era in carcere dal 2015 per un omicidio commesso a Giovinazzo quando era ancora minorenne. Grazie.